Ciao! Vabbè, adesso con la manietta tutta stropicciata. Questa settimana non riesco a fare live, appunto, però mi piaceva leggere robe e magari condividere con voi qualche riflessione. Mi piace, quindi magari torna utile anche a qualcuno e ho trovato un articolo che secondo me si presta perfettamente. Ho iniziato a leggere e poi ho detto no, questo bisogna che lo legga in video così poi magari triggero qualcosa e quindi lo faccio. Lo leggo e poi ve lo sbatto in video su YouTube e se vi va. Eccolo qua, è l'articolo che ho trovato su Il Post, meraviglioso, si chiama La fine dei siti internet. Questo è il titolo della... anzi, guarda, mettiamo anche il marker, nascondiamo qui, mettiamo il marker La fine dei siti internet. Con la fermanza di piattaforme e app hanno progressivamente perso centralità e rilevanza e con loro le persone che li facevano. Naturalmente un articolo che si apre con la Omer's web page non può che essere un capolavoro e infatti questo articolo è un capolavoro. Purtroppo non sappiamo chi l'ha scritto, dannazione, il post non mette il nome degli autori, degli articoli, non di tutti. Di certi articoli non mette il nome degli autori, quindi non posso sapere chi è, che è sicuramente un appassionato di web, però non ti posso ringraziare, maledizione. Se sicuramente stai tra il pubblico del buongiornissimo, quindi scrivimi, scrivici che sei tu l'autore di questo articolo. Faccelo sapere perché meriti tutta la pubblicità, insomma, che devi avere da questo articolo meraviglioso. E quindi lo inizierai a leggere, però si legge un po', eh? Vado a sovrapporre un po'. Aspetta che lo... Aspetta che... Facciamo una cosa. Apriamo ovviamente lo sviluppo web. Certo, perché la cosa più semplice naturalmente è spostare l'articolo in là. No, no, aspetta, spostiamolo un pochino in là. Margin left. Margin left facciamo meno 100 pixel. No! Zero. Vabbè, zero. Facciamo 100. 100 pixel. Eh? Il drago dell'internet. Allora, dopo queste cose da hacker, che solo noi hacker riusciamo a fare, possiamo leggere comodamente questo articolo. Vado, parto. La conservazione dei siti in internet è da oltre un decennio un argomento di discussioni frequenti, per lo più declinate in termini di responsabilità della selezione dei contenuti e della integrità della memoria di archivio mondiale. Dopo che Google ha recentemente annunciato l'interruzione del servizio di caching, ve l'avevo detto, no, in un buongiornissimo che Google aveva spento, e se adesso voi cercate qualcosa su Google, non avete più il cached page, insomma, la pagina archiviata che potete vedere. Non c'è più. Quel servizio lo usano sempre loro internamente, ma non è più esposto al pubblico. E appunto, come dice il post, la funzionalità che permetteva di accedere alla versione archiviata dei siti, è probabile che il lavoro svolto da organizzazioni come Internet Archive e da altre biblioteche digitali che raccolgono miliardi di pagine web diventerà in futuro ancora più importante. E lo abbiamo esattamente detto. Un tema, tra l'altro, Internet Archive come altre, certo, devono fare un lavoro, devono farlo importante, però hanno bisogno anche di sostenibilità, di sovvenzione, insomma, di soldi. Devono in qualche modo resistere ai costi che devono affrontare. E quindi Google, per favore, visto che hai spento il caching, almeno sovvenziona Internet Archive che è un buon servizio. Un tema affrontato meno spesso quando si parla del rischio di perdere parti di Internet riguarda la scomparsa parallela e, per certi versi, più significativa degli approcci, delle attenzioni e delle sensibilità individuali che in molte parti diverse del mondo, tra gli anni 90 e fino ai primi 10 del 2000, furono fondamentali per la creazione, la condivisione e la popolarità dei siti web. Considerati per lungo tempo la principale e più eterogenea fonte di informazioni su Internet, oltre che il primo punto di accesso per milioni di persone, i siti hanno progressivamente perso centralità e rilevanza a fronte del successo dei grandi portali e in seguito delle piattaforme e delle app dei social media che, se vi ricordate, è una cosa che avevamo più o meno affrontato con un link che avevo passato e, infatti, questo articolo cita esattamente quel link. Dopo ci arriviamo. Parte di questa evoluzione è a volte descritta come uno degli effetti del passaggio dalle pagine statiche al web 2.0. Chi ha vissuto quel passaggio? Si ricorda perfettamente, un certo modello di Internet diffuso a partire dai primi anni 2000 è basato su strumenti che hanno esteso e reso più semplice l'interazione tra utenti e la produzione e condivisione dei contenuti. Alla maggiore semplicità d'uso corrispose una crescente dipendenza degli utenti dai servizi e dalle infrastrutture di grandi aziende come Facebook, Amazon e Google e corrisposero anche una crescente omologazione dei contenuti. importantissimo questo. E una regressione delle modalità di consultazione basate in precedenza su una paziente navigazione tra i siti e sul largo utilizzo di link esterni quelli che portano dallo sito all'altro. Vi ricordate la navigazione? Oggi non si dice più navigare in Internet, no? All'epoca era una cosa che si usava, no? Navigare, surf the web. Vi ricordate servizi come StumbleUpon? Quanto sono vecchio. Solo i più vecchi di voi si ricorderanno di StumbleUpon quella meraviglia che ti permetteva di scoprire siti nuovi. Poi naturalmente i link, cioè i link che sono fondamentalmente la base da cui la nascita di Internet è il link ipertestuale, il collegamento tra documenti. Si è un po' perso. L'ascesa dei blog, la blogosfera, e successivamente la diffusione ancora più rapida e capillare dei social media favoriti dalla diffusione degli smartphone resero non più fondamentali gli strumenti e le competenze tecniche in precedenza necessari per aggiornare le pagine dei siti statici. Ma ridussero anche la necessità e la popolarità dei siti che in molti casi erano a loro volta aggregatori di contenuti di altri siti. A vantaggio di un'esperienza di Internet sempre più centralizzata e mediata da poche piattaforme dominanti. Cosiddetti, come per tornare al DMA dell'Unione Europea, i gatekeeper. Queste piattaforme che veicolano la grande maggioranza del traffico su Internet ma non solo, anche dei contenuti. Oggi è largamente più diffuso la lettura del titolo e dello snippet, del piccolo abstract di testo, della preview di un link su social media piuttosto che il contenuto stesso, il link stesso. Quindi per la maggior parte il web è fruito attraverso le anteprime delle condivisioni su social media. Questa tristezza però è la realtà. È mediata da poche piattaforme dominanti. Quindi dicevo, il coinvolgimento di un numero crescente di utenti da una parte ampliò notevolmente la quantità di dati personali e informazioni disponibili su Internet per gli utenti stessi ma soprattutto per le aziende e dall'altra parte comportò un impoverimento di informazioni distribuite attraverso i siti. Alcune biblioteche digitali come 404 PageFound e Web Design Museum raccolgono le pagine di vecchi siti Internet molti dei quali non più aggiornati ma ancora attivi creati tra gli anni 90 e gli anni 2000. Consultarle permette di apprezzare la curiosità e l'intraprendenza di autori e webmaster questa parola non la sentivo da più o meno 48 anni che meraviglia. Una volta eravamo tutti webmaster quando eravamo webmaster in grado di creare esperienze digitali incredibili eravamo tutto eravamo backender, frontender, UI designer, SEO, commercialisti, account tutto, facevamo tutto database, administrator, facciamo l'hosting, sistemisti il webmaster era tutto qualunque cosa tu ti presentavi in qualità di webmaster ed era la tua responsabilità la creazione del sito sin dal preventivo fino alla delivery sul cloud provider che in quell'epoca era una finestrella di filezilla che erano in molti casi la stessa persona infatti autori webmaster che erano in molti casi la stessa persona e i loro tentativi di rendere i siti graficamente riconoscibili che meraviglia tutti gli stili strani spero che ci sia poi una carrellata di questi siti nonostante le limitazioni poste dai linguaggi di programmazione dell'epoca permette inoltre di cogliere l'eterogeneità degli argomenti e delle informazioni trattate dai cucchiai forchetta ai calamari giganti ai bagni delle stazioni di Tokyo qua ci sono dei link, li voglio aprire partiamo dai cucchiai forchetta questa non la sono scemo Spork how do I love thee? let me count the prongs ma che cos'è? Spork gear? the sports we are selling them che cos'è? ma che cos'è Sporks? non lo conosco è una cosa che mi sono perso? perché non ho mai sentito parlare di questo? e poi non è così brutto questo sito i calamari giganti in search of giant squid giant squid lives in most of the world's ocean is among the big island of the sea ok i calamari vabbè ma questo non è il need di particolare i bagni delle stazioni di Tokyo Tokyo Toilet Map bellissimo toilet paper and the majority of the restroom in train of station many of these restroom are dirty smell awful ok this webpage contains photographs of the toilets of these stations and other locations throughout Tokyo quindi sono foto dei bagni pubblici di Tokyo divisi per categoria clean, dirty, cool graffiti e poi c'è la Tokyo Map comunque mi aspettavo di peggio da questa carrellata di siti quindi la condivisa abitudine di aggregare ed elencare contenuti esterni ai siti uno dei siti più vecchi e ancora attivi acme.com andiamo a vedere subito acme.com non hai il certificato non è HTTPS non hai il certificato valido acme laboratisi graphics unix network ma questo me lo ricordo più o meno però non è neanche così malvagio gif animata naturalmente non può mancare registrato nel 1991 e online dal 1994 è una raccolta aggiornata di software gratuiti un sito italiano simile programmifree.com programmifree.com esiste ancora è anche aggiornato le novità di aprile 2024 è anche aggiornato però ha mantenuto la stessa grafica dell'epoca bravo programmifree.com continua a lottare resisti questo è anche HTTPS copyright programmifree.com bravo lotta insieme a noi è gestito ancora oggi da una sola persona che ringrazio saluto un altro sito il più presente citato in questo tipo di raccolto è spacejam.com questo è il sito che troverete ogni volta che hai cercato una carrellata di brutto web design che in realtà non è brutto ma fa il giro e diventa questa roba qua che meraviglia tra l'altro la cosa figa mi pare qua se andate che ne so su un sito tipo questo c'è su un link qua dovete cliccare sul è molto chiaro bisogna cliccare sugli armadietti tipo per vedere il cast bios eccolo qua una volta dentro c'è questo meraviglioso iframe questo sito diviso in iframe con le bio del cast cioè la bio di michael jordan e dei altri questo era il sito di spacejam ed è ancora online ed è aggiornato perché il certificato è attivo e valido questo era spacejam portato da warner bros nel 1996 in occasione dell'uscita del film spacejam materialmente utilizza tabelle in html e gif trasparenti non hanno mai cambiato se tu scrivi utilizza tabelle in html vuol dire che tu tu autore di questo articolo tu sei del settore tu in qualche modo tu devi dirmi chi sei trovate chi è l'autore di questo articolo perché tu probabilmente se cercate questo articolo se cerco se cercate se cerco su x probabilmente lo trovo l'autore di questo articolo con il passaggio dai siti statici ai social media e alle app è cambiata una parte consistente delle modalità sia di produzione che di fruzione dei contenuti oltre che il formato quelli che ricevono la maggior parte delle attenzioni che si tratti di testi video immagini sono esplicitamente prodotti per determinate piattaforme è certo selezionati dalle piattaforme stesse attraverso algoritmi specifici e infine presentati a ciascun utente in uno spazio personalizzato all'interno delle piattaforme come feed e bacchecchi virtuali certo quindi sono tutti sono tutti incapsulati sono tutti ristretti in uno spazio predefinito non c'è spazio alla creatività come abbiamo visto uno space jam oggi non si potrebbe più fare lo sviluppatore statunitense Jason Velasquez scrisse a gennaio sul suo blog eccolo qui che questo cambiamento è probabilmente una delle maggiori ragioni per cui molte persone oggi hanno la percezione che manchi qualcosa nella loro esperienza internet questo blog post di cui state parlando è where have all the websites gone che io ho inserito nei link di una insomma di una puntata del podcast di qualche tempo fa ed è insomma l'articolo che dice esattamente questo che di nuovo consiglio di leggere perché è meraviglioso e questo articolo questo post su il post riprende esattamente questo articolo qua la gente oggi ha la percezione che manca qualcosa nell'esperienza internet pur essendo le possibilità di esprimersi online molto più numerose rispetto a 20 o 30 anni fa dove sono finiti tutti i siti si chiedeva su X un utente citata da Velasquez in risposta a quel tweet alcune persone attribuivano la responsabilità all'appificazione di internet e all'omologazione dei formati altre citavano l'interruzione del supporto dei browser a flash a partire del 2020 ma che questo in realtà è stato un bene e la conseguente scomparsa di molti siti e giochi online ma in un modo o nell'altro indipendentemente dalle spiegazioni tutti erano d'accordo con l'asservazione iniziale dell'utente la buona notizia è che i siti non sono andati da nessuna parte questa è fondamentale scrive anzi scrisse Velasquez citandone alcuni dei suoi preferiti tra i milioni che ancora esistono la brutta notizia è che siamo noi quelli scomparsi aggiunse riferimento alla perdita della gioia della scoperta dei contenuti e della capacità di cercarli e gestirli da parte di chi ne fruisce li aggrega o li produce cioè anche noi secondo lui esternalizzando la scoperta agli algoritmi aziendali la maggior parte delle persone non tutte ma abbastanza da cambiare internet ha sostanzialmente barattato l'autonomia delle proprie ricerche con un feed di contenuti infinito cioè quindi abbiamo appaltato la navigazione la scoperta della ricerca su internet ad aziende che ci forniscono i contenuti che secondo loro sono più rilevanti per noi e che quindi non fanno altro che omologare tutta la nostra esperienza e rinchiuderla in una gabbia questo è il succo di questo articolo chiedersi dove siano finiti tutti i siti concluse è in realtà un modo di esprimere una nostalgia per tutti quei curatori aggregatori e collezionisti che una volta mostravano il meglio che il web avesse da offrire e allo stesso tempo è un modo di prendere atto dalla nostra diminuita capacità di separare il segnale dal rumore un lavoro di distinzione e selezione in passato più autonomo ma poi sempre più spesso gestito dalle piattaforme questo è questo è cruciale noi abbiamo proprio lasciato la gestione di questo contenuto alle piattaforme ai gatekeeper l'incapacità è anche in parte una conseguenza del notevole aumento del rumore di fondo cioè di siti tutti uguali che diluiscono i risultati delle ricerche e le rendono infruttuose creati sotto la spinta di un sistema di incentivi a uniformare i contenuti e ottimizzarli per i motori di ricerca i danni del SEO vediamo un po' questo link dove ci porta a questo articolo del post che ha più di un anno le ricerche su google non sono quelle di una volta l'abbondanza di annunci pubblicitari e contenuti simili nei risultati sta cambiando opinioni e abitudini di molti su motori di ricerca e con l'arrivo della IA che non fa altro che generare testi oppure aggregare testi oppure ricercare i contenuti che rispettano la stessa struttura la cosa peggiora anche un pochetto ma proseguo un concetto in parte simile a quello espresso da Velasquez è stato recentemente spiegato in un articolo sull'Atlantic anche dall'informatico statunitense Ian Bogost sviluppatore di videogiochi ed esperto di tecnologia riguardo all'espressione navigare su internet inglese surf the internet ormai abbastanza desueta Bogost ha scritto che aveva perfettamento senso all'epoca della massima popolarità di siti e portali che si basavano sull'aggregazione di contenuti di vario tipo internet era ancora percepito come qualcosa di nuovo e trovare qualcosa di utile era difficile richiedeva un impegno attivo da parte dell'utente che di solito trovava per questo molto utili gli elenchi di siti suddivisi per categoria come quelli proposti dal portale Yahoo non è detto che la ricerca portasse poi a una scoperta utile o producesse un qualche tipo di intrattenimento apprezzabile e anzi spesso non succedeva ma in generale secondo Bogost l'utente si sentiva effettivamente come un perdigiorno in spiaggia in attesa di prendere un'onda che meraviglia una sensazione in parte simile a quella provata da chi era abituata a fare zapping con il telecomando della tv molte cose cambiarono negli anni seguenti dopo la rapida commercializzazione di internet associata a un parallelo e fondamentale miglioramento delle infrastrutture tecnologiche le precedenti limitazioni secondo Bogost furono la principale ragione per cui indipendentemente dalla qualità dei contenuti disponibili era abbastanza impensabile un fenomeno oggi invece del tutto normale trascorrere tutta la giornata online navigare su internet richiedeva l'utilizzo di un computer e implicava nella maggior parte dei casi trovarsi a casa e occupare la linea telefonica bei tempi la trasmissione dei dati avveniva a una velocità tale da motivare la segnalazione grafica dei tempi di caricamento delle pagine tramite una barra di stato vi ricordate la vita online era per lo più attesa e dal momento che ogni click di troppo comportava un ritardo evitabile i browser distinguevano con due colori diversi i link già visitati da quelli non ancora visitati lo fanno ancora ma non interessa più a nessuno questa è una ottima considerazione molte altre limitazioni fisiche dagli schermi piccoli alla grafica a bassa risoluzione rappresentavano un involontario fattore di deconcentrazione il World Wide Web degli anni 90 era un posto in cui entravi e rimanevi per un po' finché non ti sputava fuori ha scritto Bogost era un'esperienza con una fine che arrivava quando qualcuno quando a qualcuno serviva il telefono quando l'affaticamento della vista prendeva il sopravvento o quando l'oceana virtuale non riusciva a generare un'onda che valesse la pena prendere e con questa considerazione malinconica insomma si chiude questo articolo che ho trovato molto carino e che effettivamente segna segna una cosa di cui si sta parlando e di cui vale la pena parlare cioè il fatto che internet si è omologata magari è una banalità da quando sono arrivati i contenuti sono scritti in ottica social in ottica SEO sono tutti un po' standardizzati le grafiche dei siti internet hanno perso quella vena creativa anche in parte bisogna dire e con ragione per questioni di accessibilità per le linee guida del V3C le VCAG che perfettamente hanno delineato insomma un modo per rendere i siti usabili e accessibili a chi ha dell'adesibilità o semplicemente a chi fa fatica a concentrarsi e leggere dappertutto il contenuto che spara flash cambia colore dimensione ruota e quindi capisco questo ha assolutamente senso d'altra parte però anche l'avvento dei framework in particolare l'odioso arrivo di bootstrap che ha standardizzato nel classico formato a header e colonne tutti i siti web ecco ha denotato un po' e per lungo tempo ha denotato questa mancanza di creatività incredibile che ha finito col omologare tutti i contenuti su web e quindi nessuno vuole più cercare di fare qualcosa di strano no bisogna fare qualcosa di fruibile qualcosa di utile tanto poi alla fine il contenuto anche qua questo articolo del post probabilmente sarà letto da qualche aggregatore da qualche lettore da qualche lettore di RSS come ho fatto io io inizialmente iniziai a leggerlo con un lettore di RSS poi adesso l'ho letto qua sulla sorgente però insomma la navigazione è molto cambiata probabilmente qualcuno neanche lo leggerà lo troverà condiviso su un social network vedrà lo snippettino con l'immagine della Omers web page metterà il mi piace magari condividerà però senza aprirlo direttamente e inoltre appunto Google è diventato il motore di ricerca di fatto la SEO ha omologato tutto quanto fortunatamente sta nascendo vi consiglio di andare a vedere un po' anzi magari ne parleremo ancora in futuro un po' un web parallelo cioè un web che esce un po' dalle logiche dell'advertising del SEO e dei social media fatto di piccoli siti piccoli blog che hanno contenuti interessanti sono anche strutturati in modo un po' creativo ma che sono più difficili da cercare vi ho già parlato una volta del motore di ricerca che si chiama CAGI scritto K-A-G-I punto com è un motore di ricerca a pagamento dovete pagare una quota mensile per poterlo utilizzare ma questo motore di ricerca ritrova per voi i contenuti diciamo un pochino più di nicchia un pochino più nascosti ma che hanno una grande qualità proprio nella loro scrittura e quindi che rispondono bene a una certa ricerca in base a criteri qualitativi che CAGI stesso va a verificare quindi insomma è un po' un web parallelo poi ce ne sono altri più decentralizzati ma insomma l'abbandono progressivo di X verso network più decentralizzati come Mastodon Blue Sky Trez insomma Trez un po' meno diciamo Mastodon ecco e in generale questa progressiva perdita di fiducia nei grossi gatekeeper forse può far rinascere un web che adesso abbiamo un po' abbandonato questo era il mio pippolone finale volevo leggere insieme a voi questo articolo che ho trovato molto interessante grazie il post troviamo troviamo questo autore dopo vado a cercare su X e magari lo trovo quindi grazie se avete seguito insieme a me questo viaggetto nella vecchia internet magari la scoperta di un internet che verrà e noi ci rivediamo a un prossimo video magari a un prossimo podcast o a un video come questo insomma chiacchiereremo insieme grazie ciao